Dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di Serie A2 sull'ostico campo di Albinea per 4-2 che ha rappresentato un grande passo avanti per quanto riguarda la classifica, per il circolo tennis dell'Aquila arriva un altro importante risultato negli ultimi giorni, questa volta dalla squadra giovanile Under-14 maschile. I ragazzi che compongono questa squadra, Fabio De Benedictis, Davide Perazza e Paolo Marsili, si sono infatti laureati campioni regionali uscendo vincitori dal Final Four disputato lo scorso 24 e 25 aprile nel centro fit di Castel di Sangro. Il tutto al fine di un girone di qualificazione provinciale e poi regionale dominato in cui sono emersi in toto i valori assoluti dei tre piccoli tennisti. Altri importanti risultati individuali di spicco sono arrivati da Gianluca Di Nicola e Massimiliano Scimia, il primo in crescita costante con risultati e rendimento, ha conquistato la finale del torneo Open di San Benedetto del Tronto arrendendosi solo all'ultimo atto. Il risultato comunque ottimo arriva al termine di una settimana molto intensa per il giovane Avezzanese, in grado di affrontare oltre al torneo anche la trasferta in Emilia-Romagna con la Serie A2 per un totale di oltre 15 ore in campo negli ultimi 5 giorni. La finale ad ogni modo lo qualifica per le prequalificazioni degli internazionali d'Italia al viaggio dei prossimi giorni. L'altro importante risultato ottenuto invece da Massimiliano Scimia ha visto l'Aquilano spingersi fino agli ottavi di finale del torneo della terza categoria di Francavilla, perdendo unicamente al terzo set per mano della testa di Serie Donatello Volpe.